Sandro Ruotolo, giornalista, politico, senatore, un grande uomo, ha sempre combattuto contro le camorre e le mafie. E io ne so qualcosa perché qualche volta sono stata testimone straordinario, perché un uomo per bene è una persona che sa quello che vuole, è una persona che per tutta la vita non ha affatto altro che difendere i diritti umani, i diritti dei più poveri, di quelli che avevano più bisogno. Io mi fido di Sandro Ruotolo, mi fido moltissimo di lui perché è una persona molto speciale. Viva Sandro! Sandro Ruotolo